Salve gente e benvenuti sul canale YouTube MaxCalifornia86 Oggi video un po' diverso dal solito Come si può vedere dai graffi sul collo e le cicatrici sul volto Sarà un video a tema Halloween Avevo anticipato qualcosa già nelle storie su Instagram con dei sondaggi Ringrazio le persone che hanno partecipato numerose nelle mie storie Aiutandomi a prendere questa decisione Alla fine nei sondaggi tra videoconsiglio e recensione di film avete scelto la seconda opzione E poi tra i film per il video avete scelto Beetlejuice Spirito Porcello Del 1988 diretto da Tim Burton Film acquistato in questa versione 4K durante il Prime Day Amazon di questo mese Ora vi mostro il contenuto anche se già l'avevo fatto con un post Però non ancora in video Questo è il contenuto dell'edizione 4K Questo in nero è il Blu-ray normale Questo in verde è quello in 4K Purtroppo è un lettore Blu-ray normale Quindi non ho potuto visionare la versione in 4K Però avendola pagata meno di 10€ Non potevo non prenderla Comunque vi parlo di Beetlejuice Spirito Porcello Dopo la sigla! Siccome ricorre il 35esimo anniversario di Beetlejuice Ho deciso di parlarvi di alcune curiosità legate a questo film diretto da Tim Burton La prima riguarda la sceneggiatura Che doveva essere molto più horror Con più sangue Con il demoniaco bioesorcista Che doveva essere raffigurato come un rettile alato Con il tono del film più sinistro L'obiettivo del personaggio di Michael Keaton Non era spaventare i Dez Ma ucciderli La Warner non era molto convinta del titolo del film Della scelta di Beetlejuice come titolo del film E ne suggerì altri come Ghost House E Scarred Shelter Farsi sotto dalla paura La prima scelta per il ruolo di Beetlejuice Fu Sammy Davis Jr. E non Michael Keaton Beetlejuice personaggio che dà anche il nome al film Compare dopo 25 minuti Per un totale di 17,5 minuti Per il ruolo di Lydia Juliette Lewis fece un'audizione Vennero contattate anche Diane Lane Alla fine a contendersi il ruolo per il personaggio di Lydia Furon Alyssa Milano e Winona Ryder Con quest'ultima che alla fine si aggiudicò la parte Beetlejuice nel 1998 Fu il primo DVD ad essere spedito dalla nascente Netflix Che li noleggiava via post Angelica Jusson inizialmente era stata scelta per il ruolo della matriarca Delia Dez Purtroppo si ammalò e ruolando a Catherine O'Hara Il compositore Danny Elfman canta la canzone Day Zero Durante i titoli di testa Mentre viene mostrato il logo della società Jiffen Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E attivate la campanella delle notifiche Che se non volete perdervi nulla di quello che pubblicherò qui sul canale YouTube Max California 86 Nei commenti fatemi sapere se il film lo avete visto o no Se vi è piaciuto o no Se anche voi siete fan di Tim Burton E quali video volete vedere sul canale nelle prossime settimane In descrizione trovate i link ai miei profili Facebook, Instagram, Twitter, Telegram Nel quale trovate il mio gruppo Max California 86 Al quale potete tranquillamente iscrivervi Se state cercando non solo notizie sul cinema e la serie TV Ma anche sui video che pubblico su YouTube E TikTok nel quale pubblico video un po' diversi Ma sempre a tema cinema e serie TV Un saluto e ad un prossimo video Qui sul canale YouTube Max California 86 Ad un prossimo video Grazie a tutti.